L'Associazione Emopatia ed Oncologia di Sulmona torna anche per quest'anno a promuovere incontri di informazione oncologica per i cittadini che desiderano documentarsi sulla prevenzione e la diagnosi di alcune forme tumorali, purtroppo sempre più diffuse tra la popolazione. Gli incontri, che riscuotono sempre molto successo di pubblico e tanta partecipazione, si terranno come di consueto presso l'auditorium dell'Agenzia di Promozione Culturale in Piazza Venezuela. Nel primo appuntamento, quello del primo dicembre, si parlerà di prevenzione, diagnosi e terapia del cancro al colon retto. Gli altri incontri sono stati programmati nelle giornate del 19 gennaio, quando si parlerà di cancro alla prostata, e 28 febbraio, giornata dedicata al progetto alimentazione. L'incontro conclusivo del 6 aprile prossimo verrà dedicato alla prevenzione, diagnosi e terapia delle anemie. Già da alcuni anni la SEO affianca, agli incontri informativi, iniziative di beneficenza legate al mondo dello sport e della musica, queste ultime in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Sulmona. Tra queste il concerto di Natale, che quest'anno si terrà sabato 15 dicembre al Cinema Pacifico, con un programma di musica e canti natalizi. Grazie a tutti.